E' un record storico quello che ha fatto registrare ieri il network Media Nord-Est, sempre in diretta con le proprie emittenti, per portare nelle vostre case tutte le emozioni della 94esima adunata di Udine. Oltre un milione di telespettatori per Antena 3, Rete Veneta e Tele4 che confermano ancora una volta la propria leadership assoluta nel panorama delle televisioni locali per ascolto medio certificato Auditel. Prima televisione assoluta per ascolti in Veneto, Antena 3. Al secondo posto, durante l'intera giornata dedicata alle pene nere, c'è Rete Veneta. Ed eccola l'analisi della giornata televisiva di domenica grazie ai dati certificati Auditel, con il grafico degli ascolti del gruppo Media Nord-Est e quelli del gruppo concorrente Video Media, la cui distribuzione è molto chiara. E' un record che conferma la posizione di assoluta leadership per le emittenti del network Media Nord-Est, sempre leader, sempre sul campo per i grandi eventi e ancora una volta preferita la concorrenza. Grande soddisfazione anche per gli investitori di Media Nord-Est che con oltre 5 milioni di visualizzazioni per i propri spot pubblicitari hanno raggiunto un pubblico vastissimo. Il nostro grazie va ad ognuno di voi che ogni giorno scegliete le emittenti del nostro network sbaragliando qualsiasi concorrenza per nuovi record e sfide da vivere assieme. E un arrivederci a Vicenza l'anno prossimo con l'attesissima adunata nazionale nel capoluogo berico. Ma rivederci anche a Belluno dove dal 16 al 18 di giugno si terrà il raduno del terzo raggruppamento alpini. Naturalmente noi ci saremo per portare la triveneta delle penne nere nelle vostre case. Come sempre con voi e con gli alpini.